Sottoscritto in prefettura il protocollo di legalità per la BAT, alla presenza del prefetto della Sesta Provincia Pugliese Maurizio Valiante, i sindaci di Andria, Trani, Biceglie e Margherita di Savoia hanno firmato il documento che punta a rafforzare le misure di prevenzione contro le infiltrazioni mafiose all'interno di affidamenti pubblici, concessioni e procedure concorsuali. L'obiettivo a breve termine è quello di tutelare le risorse che verranno trasferite agli enti locali nell'ambito del piano di ripresa e resilienza, evitando un utilizzo illecito delle somme stanziate. Prefettura, provincia e comuni avranno facoltà di vigilare sui regolamenti vigenti, implementare le attività di controllo economico nei confronti dei contraenti e interfacciarsi più agevolmente con le altre istituzioni per il monitoraggio delle attività finanziarie. Nei prossimi giorni è prevista la firma del protocollo da parte degli altri sindaci della BAT. La nostra trasparenza è fondamentale, ha dichiarato il prefetto Maurizio Valiante. Vogliamo garantire la serietà delle istituzioni e delle imprese affidatarie a tutti i cittadini della nostra provincia.